E ormai conto alla rovescia per non solo Rock 2015 che quest'anno vede il gemellaggio di due comuni Cervinara, Location Storica e San Giorgio del Sagno, conferenza stampa a Benevento per presentare il ricco cartellone del festival di musica indipendente completamente autofinanziato. Si parte il 17 e il 18 luglio a Cervinara con band del calibro dei Tamburins direttamente da Londra e gli Albedo, band rivelazione italiana dell'anno. Sul palco di San Giorgio del Sagno presso l'area fiera l'8 agosto ci saranno invece i Luminal, i Nadar Solo e Michela Grena. Come ogni anno spazio anche alle arti visive, workshop e dibattiti. Ai microfoni di 8 Channel il patron del festival Enzo Cioffi. La quinticesima edizione di questo benedetto festival, non solo Rock, anche se le edizioni potrebbero essere di più, ne abbiamo soltato due, perché? Semplicemente perché si trattava di un solo giorno, quindi abbiamo conteggiato nel novero del festival quelle edizioni con più giorni di musica live. Questa è un'edizione particolare, è come se volessimo tornare indietro nel tempo e indossare di nuovi panni del nomadismo, non so che è nato nomade, Lioni, Montesarchio, Lauro e così via. Quest'anno Cervinara San Giorgio del Sagno, come dire, un piede nel territorio caudino, un altro nel territorio sanito ed è bellissimo, come dire, grande programma live, workshop molto ricco, che dire, stiamo ormai vicini alle date, sarà una bellissima quindicesima edizione. Grazie a tutti.